Facciamo raccontare di più dal nostro inviato sull'isola, Matteo Parlato. Eccolo qua, collegato con noi in diretta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno da Lampedusa. L'arrivo di Papa Francesco è stato anticipato allo stesso molo dove sbarcherà il Papa dall'arrivo di questi profughi che sono stati soccorsi in mare e trasbordati su due mezzi della Capitaneria di Porto e una motovedetta della Guardia di Finanza. In questo momento, mentre noi stiamo parlando, sono in corso le operazioni di trasbordo dalle motovedette al molo dove i profughi verranno poi fatti salire sui pullman e portati dentro il centro di accoglienza. Il centro di accoglienza in questo momento ha circa 112 persone. A giudicare dal dispiegamento di forze si può dire che si tratta di circa 200 persone e che ricordiamo, questo non è stato in realtà una sorpresa perché già l'altro giorno abbiamo parlato con il comandante della Capitaneria di Porto che ci ha detto che le condizioni meteo stanno per ritornare favorevoli quindi noi siamo pronti. Ci aspettiamo di dover uscire dal porto e andare a fare soccorsi. Questi sono tutti i soccorsi che vengono fatti in alto mare, in realtà tecnicamente non sono proprio sbarchi da barconi qui come succedeva nel 2011. Questi profughi vengono soccorsi, trasbordati dalle carrette del mare ai mezzi della Capitaneria, della Guardia Finanza e dei Carabinieri e su questi mezzi vengono portati qui. Quindi come ci avevano annunciato la macchina di sicurezza conosce bene la situazione e si è puntualmente avverrato con questo sbarco. Questo sbarco che arriva più o meno un'ora e mezza prima dello sbarco di Papa Francesco proprio su quel molo, dove vedete che ora stanno sbarcando il molo favarello, si chiama il molo militare, dove ormai Prassi fa sbarcare queste persone che vengono soccorse in mare. E proprio su quel molo, simbolicamente, fra più o meno un'ora e mezza, sbarcherà Papa Francesco. E noi saremo qui e seguiremo, abbiamo anche Vagna e Luca, che seguiremo attraverso le dirette RAI tutta questa visita, questa visita che è molto importante, molto simbolica ed è molto sentita. qui dai Lampedusani, che hanno dato molte prove di accoglienza, di enorme pazienza e per questo oggi ricevono questa visita pastorale del Papa.